Ciao a tutti ragazzi, oggi spiego l'intro di Rock'n'Roll delle Zeppeli. Definiamo due punti fondamentali. Il tempo è un semplice quattro quarti. E' il levare. Cos'è il levare? E' il contrario del battere, per cui se questo è il battere, Rock'n'Roll inizia sul levare del terzo movimento, quindi Adesso, un altro punto fondamentale. L'intro viene suonato con tutte e due le mani, quindi tutte e due le mani suonano contemporaneamente. Per facilitare il tutto, pensiamo al franceggio della parte centrale di Gianni Biggold. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Adesso suoniamo l'intro per come viene suonato nel disco. Grazie a tutti e buon divertimento. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.